Continuano i servizi di contrasto alla panificazione abusive e alla vendita illegale di prodotti alimentari da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. A Caivano i militari della locale tenenza, insieme a quelli del NAS, hanno bloccato l'autista di un furgone nel quale erano stipati grossi cesti di pane privi di indicazione sulla tracciabilità. I carabinieri hanno poi individuato i locali dove il pane era stato preparato e messo in vendita, tra polvere e sporcizia prodotti da forno esposti senza alcuna protezione, confezione o indicazione sulla filiera produttiva. Il titolare dell'attività è stato sanzionato e 120 kg di alimenti sono sotto sequestro. Sono 31, invece, i kg di prodotti da forno sequestrati dai carabinieri della stazione di Afragola in un panificio del posto. Il titolare dell'attività, oltre a garantire lavoro in nero a due persone, esponeva alimenti senza alcuna indicazione sulla tracciabilità. A Giuliano, poi i carabinieri della stazione di Qualiano, insieme sempre a quelli del NAS, hanno denunciato un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine, perché sorpreso a gestire un panificio abusivo nella sua abitazione. Aveva infatti installato due forni a legna e attrezzato l'attività con l'impassatrice industriale. I militari hanno scoperto che le emissioni dei fumi di combustione nell'atmosfera erano fuori controllo e le acque refluere scaricate nella fogna comunale. Per l'uomo è scattato il sequestro dell'attività e dei materiali. Due, invece, le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli nei quartieri napoletani di Pianura e nel rione Traiano. Controlli serrati anche nei quartieri della periferia orientale della città. Infatti più di 30 kg di carciofi sequestrati a barra in viale della Villa Romana. Un'intera famiglia aveva organizzato un chiosco completo di griglia per la cottura e un piano per l'esposizione e la vendita. Grazie a tutti.